Giorgio fermo, fermo Giorgio, non lo so quando esce TheBus su console, basta scriverlo in tutti i video Oggi siamo su TheBus e dovrebbe essere arrivato l'aggiornamento che ci mette, insomma, le decorazioni di Natale E ho iniziato con Giorgio, perché Giorgio mi scrive in ogni video Fodra che quando uscirà TheBus su console PlayStation 5, non si sa, ok? Non si sa, se lo sapevo ve l'avrei detto E anzi, vuol dire che non mi segui su TikTok Andate subito a seguirmi su TikTok, perché lì in tempo reale ogni volta quando c'è una novità certa riguardo un determinato gioco vi avviso lì Quindi Giorgio, se vuoi rimanere aggiornato, seguimi lì e così almeno verrai avvisato, ok? Adesso iniziamo con il nostro bel autobus In teoria la luce interna dell'autista si dovrebbe spegnere quando vado a chiudere le porte in teoria Vediamo se è vero o una bugia Mi sa che è una bugia, perché non si spegne No, non si spegne la luce dell'autista Quindi spegniamo la luce dell'autista Perché lo dico? Perché teoricamente dovrebbe spegnersi per via del riflesso Allora, non mi ricordo adesso il tasto Ok, sì, eccolo qua il tasto L'F4 Perché la luce interna quando è notte non va bene per l'autista in quanto causa riflesso sul vetro Oddio, che ho sbattuto? Non lo so Ho sentito un rumore brutto E qual è la novità di questo aggiornamento? Tra poco lo vedremo Per quanto riguarda la versione su console non ci hanno aggiornato Però sappiamo che arriveranno presto delle novità Su quello siamo molto sicuri Arriveranno i nuovi autobus Allora, dovevano arrivare entro fine dell'anno Però probabilmente vogliono un po' aspettare perché non è pronto Io preferisco veramente che aspettino, rallentino, ci mettano un anno ancora per fare le robe Piuttosto che rilasciarle e poi fanno pru pru Abbiamo visto l'altro giorno City Driver su console, è ingiocabile Quindi, raga, non pressate le persone, ovvero gli sviluppatori Fate, fate, fate Perché, comunque, se poi li pressate talmente tanto che poi rilasciano e vi prendete la fregatura E buttate i vostri soldi Allora, io adesso non capisco sulla mappa che cacchio significa quel gira a destra Ma io penso che devo girare a sinistra Poi io seguo questa via Spero di non essermi sbagliato Tra l'altro, guardate Nella nostra corsia preferenziale Intravediamo le decorazioni di Natale Guardate che bello Berlino con le decorazioni di Natale Ma è bellissimo È arrivato questo aggiornamento Attenzione, dovete mettere beta Ok, dovete mettere la versione beta Secondo me le toglieranno dopo Natale Ehm, veramente una figata Anzi, quasi quasi Dato che abbiamo, siamo, arrivo No, non siamo in anticipo Ma neanche in ritardo Magari, accosto un attimo Qui vediamo le decorazioni di Natale Guardate Che carino Ci sono tutte le decorazioni Tutte belle fiere Molto belle Carine C'è proprio un mercatino di Natale Qua a destra È proprio di notte Ecco perché l'ho voluto vedere di notte Allora, apriamo un attimo qua le porte Guardate che carino Ci sono forse anche le canzoncine di sottofondo Bellissimo Ci sono le bancarelle Le persone qua Che si divertono Guardate, c'è il sevaporo rosso Bellissimo Lo adoro Ok, è diventato verde Saliamo sull'autobus Prima che diventi di nuovo rosso Chiudiamo le porte E partiamo Let's go Molto, molto bello Bravi Mi piacciono questi aggiornamenti Cioè questi sono aggiornamenti temporanei E però Tu dici Oh vabbè Minchè è Natale Ve lo godo Però spero Mettano un pulsante Perché è un peccato Che lo buttino poi Come aggiornamento Spero che mettano Tipo come su Tram Sim Attiva modalità Christmas Così quando è Natale Attivi queste decorazioni A me De basso Ve lo Vi ripeto Come Fernbus Mi fa impazzire Io spero Arrivi su console Però Quando arrivi Che funzioni Ok Perché è una figata Ehm Poi Allora Su console Potrebbe arrivare anche Però dovete fare attenzione Perché il gioco è ancora in alfa Il gioco è ancora in alfa Si ci sono un sacco di linee Pronte Ma Il loro scopo Sarebbe anche mettere Magari qualche Multiplayer Non so In che modo Non so E il primo DML Studios Tipo su Fernbus Non ha messo Il multiplayer Aveva in mente Di farlo qua Su Su De basso Però non so come Poi altra cosa Amici di console Qui non abbiamo ancora L'economia Ecco perché È in alfa Però graficamente Cioè guardate che Fa Davvero impazzire Questo gioco Su Unreal Engine La neve a me Fa impazzire In sto gioco Sul vetro Voi Ogni tanto c'è qualche gocciolina Lì guardate Guardate lì Non so se si vede Vabbè notte Ma c'è tipo Una gru Di construction simulator Ma anche all'esterno Cioè se tu lo vedi Guarda che Porca Vacca che bello Bellissimo È bellissimo È proprio Una roba Che dici Wow Solo Sentite Il clacson È un pochino Io adesso Sto utilizzando Il Mercedes E Sitaro Ma spero che arrivi Mi sembra Avessero detto Quando avevo fatto L'intervista Solaris Vero raga Però non mi ricordo Neanche cosa avevo detto Nel video Ma dovrebbe arrivare Il Solaris Il Solaris Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo pure Qua in Italia Oddio Anche l'Essitaro Ce l'abbiamo Da qualche parte In Italia Però non è molto diffuso Buongiorno signori Ho nessuno che oggi Ci chiede il biglietto Assurdo Oggi tutti Ci hanno il biglietto Ci avete tutti il biglietto Buongiorno signora Mamma mia Ma è buio Cioè Non si vede niente Guarda Talmente tanta gente Che devo Devo entrare davanti Allo Allo Guten Morgen Chiudiamo Avanti Chiudiamo Dietro Ripartiamo Poi Sulla mappa Non so le decorazioni In quale altro punto sono Magari Non è l'unica Non è l'unica Mappa Magari Nella mappa Ci sono altre decorazioni Anche se Devo dire È un pochino Cioè Solo lì La città Hanno messo Con Con Le decorazioni Invernali Ok Perfetto Fermiamoci Ma quanto è buio Ma mettetemi La luce Per favore Mettetemi La luce Per favore Vediamo Si può mettere La luce qua Oddio Si si può Time lapse Tempo di attesa Però penso No niente Scherzavo Per Se sei troppo In anticipo Quindi non mi porta Proprio avanti Avanti con il tempo Anzi Più Più mi porta avanti Con il tempo Più diventa buio Perché Alle 5 di sera Sono veramente così Il clima In Germania Cioè Alle 5 Buio Ma è buio Buio Raga io non vedo Niente tra poco Ok Adesso Vesso giorno E Si oddio E' ancora buio Quando nevica In Germania Niente Non Vuoi non vuoi Devi stare al buio Va bene Va bene Allora Accendiamo l'aria climatizzata Vediamo il freno Mettiamo la prima E andiamo Oh la prima Oddio Non è che ci Allora Nell'elettrico Non è che ci sia Chissà Oddio Aspetta Com'è che si abbassa No no Non andava così potente Riduci Metti Metti Ma non troppo Io adesso sono Tipo Tra due corsie Accendiamo le luci Lo stesso Oh no Così è troppo Così c'è l'abbagliante Pure Così Ecco Così Dovrebbe andare meglio Ok Abbiamo Ah la solita statua Va bene Magari vediamo se Becchiamo anche No Era arancione Era arancione Dai Non potevo frenare Sennò facciamo svenire Le persone dietro Oddio Aspetta Qua dov'è Che è la corsia Qua a sinistra Si chiama Anche un pochino Flashing light Se volete Qua Ok Mettiamo la freccia Buongiorno Ma che bello lo zoom A me piace un botto Metterlo zoom Perché Tipo aumenta gli fps Non so perché Ok Allora signora Accendiamo Ah non ha acceso le luci Di nuovo Devo riaccenderle Perché mi sa che Mettendo giorno Dietro si sono spente Le luci Le accendiamo Allora qua spegniamo Luci interne Normali Luci Completamente accese Ok perché è buio Dietro Accendiamo Perfetto Mettiamo la freccia E ripartiamo Olè Yammeya Guli 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 Ah che bello Ah che bello Si vedono le luci interne Come le ho accese A me sinceramente Piace di più L'esterno Davanti è carino L'esterno Tutto bello Fico Ma questo volante È proprio un'altra storia Mettiamo la freccia Apriamo già Vediamo se vengono Vengono Sì La persona Lì vuole scendere Apriamo Siamo in coda Apro in anticipo Ma vedo che Sono intelligenti Si muovono Altri giochi Non era così Se non eri proprio Nel punto giusto Oh guarda lì La bandiera Germania Un'europea Ma io secondo me Non vado errato Questo gioco È sovvenzionato Anche da fondi pubblici Ma vabbè In realtà Tutti i simulatori Tutti i simulatori In Germania Sono sovvenzionati Da Fondi pubblici Ecco perché alcuni Sono veramente fighi La TML Studios Merita Secondo me La TML Studios Ha il potenziale Per diventare Come la Giant Software Però È la SCS Software Scusate Però Ne deve mangiare Di pane tosto Diceva mio nonno Ne devi mangiare Ancora di pane tosto Per arrivare A Ok Poi abbiamo Un bot di garattrezzi Che portano auto A sinistra A destra Adesso in questo momento Sto provando ad avvitare Il volante Perché Mi sono accorto Che Sta svitando Ok Non l'ho avvitato bene Va bene Fa niente Tanto Un piru piru Regge Ok Nel frattempo Che carichiamo Vediamo un pochino La situa Fammi capire giusto Come sta andando Qua La situa Ok Così Così sale Ok perfetto Le persone sono salite Sono salite Eh sì Sono salite Signor Poderak Quindi proceda pure Con La chiusura Delle porte Abbiamo stretto In questo frangente Il nostro bel volante Siamo pronti per ripartire Mettiamo la freccia Giusto per Avvisare Chi ci vuole sorpassare Illegalmente A sinistra Bello Bello lì Il nostro schermo Completamente funzionante Blackstar Repubblic Blackstar Sembra una parolaccia Ma comunque altre decorazioni Sono lì in centro Le hanno messe Eh Io pensavo Chissà quante decorazioni Mi hanno messo Questi Divieto di sosta Fermata E Ok Oddio Magari più avanti Eh Ma non ho Non ho ancora Verificato Non ho ancora verificato La mappa poi è gigantesca Di The Bus Quindi Inutile 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 Fare supposizioni Chi c'è C'è Chi non c'è C'è Vediamo Giusto più avanti Magari E Siamo Anche qua Vicino Al centro Penso Ricordo poi che questo gioco È in scala 1 a 1 Eh Significa che La mappa È Teoricamente Come nella realtà Ecco perché Da un punto X Y Ci vuole un botto E Ci sono Guardate che bell'edificio Che c'è là Questo Questo secondo me Merita di essere Visto dall'esterno Dove è una figata Qua non c'è traffico Bellissimo Ok Fermiamoci Un'altra fermata E tra poco Entriamo proprio Dentro 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 la città Magari da là Ci sono decorazioni Ok Perfetto Nel frattempo Noi Beviamo un po' d'acqua Termica Borraccia termica Mi piace la borraccia termica Perché Questa estate Mi rinfresca E adesso Mi riscalda Ok Mettiamo la freccia Diventa verde Tra 3 2 1 No Perché il semaforo Dei pedoni È ancora verde Secondo me Quando lì diventa giallo Poi c'è Sparta Sta arrivando una macchina Non direi il caso Di fare un incidente Avere torto Aspettiamo un po' Si sta Sgronocchiando Ok Diventato rosso 3 2 1 Diventato verde E diventa verde Oddio Non diventa verde Aiuto Ok verde Perfetto Andiamo Oddio Dove è finito qua La pedaliera Ok Non la trovavo più Ole Andiamo Let's go Qua dentro la città È più bello Perché le strade Diventano un pochino Più strette Diventa un pochino Più Complicato Muoversi Con l'autobus Vabbè Adesso abbiamo L'autobus Quello Tranquillo Ma in realtà Oddio Che poi freno Un botto Io comunque Ah ecco le quali Altre decorazioni Oddio Magari sono sempre Le stesse Di prima Ah no Sono nuove queste Non c'erano Oh dai Queste non c'erano E che sto facendo Zig zag No no Queste sono nuove Bellissime Anche queste Altre decorazioni Va bene Ragà Io direi Che con questa Fermata E questo Capolavoro Artistico Direi che è tutto Spero che questo Video vi sia piaciuto Mi raccomando Se è così Lasciate mi piace Iscrivetevi Al canale E noi Ci vediamo Alla prossima Con tanti Belli video Ciao Ciao